Ciao a tutti e benvenuti a questa intervista. Oggi abbiamo qui ospite Simone Draghetti, autore nonché editore, proprietario di Linee Infinite, giusto? Giustissimo. Ciao a tutti. Per parlare, prima un po' della sua figura, di come è diventato ciò che è oggi, e in seguito soprattutto del festival, il festival di San Colombano, dei libri di San Colombano, che ricordiamo si terrà il... 19 di maggio. Benissimo, benissimo. Ma prima qualche curiosità su di te, d'accordo? Allora, io sono lodigiano, sono nato a Lodi, sono nato a Lodi 52 anni fa, quindi ho la mia bella età, insomma, e sono sempre stato appassionato di lettura e di scrittura. Quindi già da ragazzo incominciavo a scrivere, a mettere su carta un po' i miei pensieri, i miei deliri anche, perché essendo appassionato di King, di Stephen King, quando ho iniziato a scrivere in metà anni Ottanta mi rifacevo un po' l'unione, quindi scrivevo cose brutte, copiando da quello che faceva King. Da qualche parte si deve pure iniziare, giusto? Assolutamente. Poi col tempo, invece, ho cominciato a trovare un po' la mia dimensione, e ho iniziato a scrivere. Però, devo fare una premessa, io non mi considero uno scrittore, sono un imbrattacarte, nel senso che... Imbrattacarte? Imbrattacarte, sì, perché per me gli autori, gli scrittori sono altri. Io scrivo e mi diverto, sostanzialmente. Se poi uno legge i miei libri e gli piacciono, va bene, altrimenti pazienza, non sono quello che dice, oddio, non piacciono i miei libri. Va bene così, sostanzialmente. Quindi ho sviluppato un pochettino, affinato la tecnica della scrittura e soprattutto i generi. Io tendenzialmente scrivo thriller e avventura, con una piccola digressione nel romanzo d'amore, perché il penultimo romanzo è un tomo di 900 pagine, che praticamente è una storia, una grande storia d'amore. Ma quando risiedi alla tua prima pubblicazione? Allora, io avevo nel cassetto tantissimi testi a partire dalla metà degli anni Ottanta. La prima pubblicazione è un libro pubblicato che si chiama Brezza d'Oriente, pubblicato nel 2004 da una piccola casa editrice di Piacenza, la Tipleco, una piccolissima casa editrice. E questo romanzo è, oddio, anche se è fuori produzione, per cui era un romanzo d'amore sostanzialmente con all'interno dell'avventura, ambientato tra l'Italia e la Russia. Invece sono curioso di Linee Infinite. Come è nata Linee Infinite? Linee Infinite è un bellissimo progetto che è nato nel 2007 dall'amore e dalla passione di quattro amici per la scrittura e per la lettura. Noi precedentemente a Linee Infinite avevamo un'associazione culturale che si chiamava La Torre, di Lodi, dove creavamo degli eventi culturali, quindi da presentazione di libri, spettacoli, abbiamo creato anche una piccola band che faceva cover di cartoni animati, insomma un po' fumetto, comics, cose del genere. Finché un giorno ci siamo detti, ma il Lodigiano è un po' un panorama desertico a livello culturale. Quindi abbiamo detto, proviamo a creare una casa editrice. Una casa editrice che però è nata con l'intento di promuovere i Lodigiani, ma anche gli autori a livello nazionale. Quindi abbiamo autori che arrivano un po' da tutta Italia. Avevamo autori siciliani come autori del Trentino, si passava da Roma e si arrivava qua, nelle nostre zone. Perfetto. Quindi prima intraprendente in brattacarte, poi editore e adesso anche organizzatore di festival. Giusto? Corretto? Sì, corretto. Sempre in brattacarte sono comunque. Certo, questa vita. È un po' come sicuro. Organizzatore di festival, anche questa è una storia un po' complicata, non complicata, è una storia lunga, perché è nata attorno al 2010. Io ho fatto, con la casa editrice, ho fatto e faccio tanti festival della letteratura come espositore. e una volta una persona che conoscevo mi ha invitato a una fiera fantasy che aveva organizzato lui. E io mi sono reso conto che era organizzata veramente male. Male. Cioè per gli espositori era organizzata male. Quindi il festival nasce da un desiderio di fare le cose meglio. Di fare meglio. Bravissimo. È nato così. È nato in questo modo e i primi festival che sono nati, i targati linee infinite, sono nati a Pandino, nel castello. Pandino Fantasy Books. Tre edizioni dal 2012 al 2015. Al 2014, scusa. Nel 2015 invece abbiamo fatto l'House Books and Comics a Lodi. Poi c'è stata una pausa di sette anni, dove ci siamo un attimo arenati. E poi siamo ripartiti a San Colombano col Back to the Books and Comics. Tre edizioni. Tre edizioni. E quella di quest'anno? Che novità presenterà? Parlacene un po'. Quella di quest'anno presenterà il solito format, fondamentalmente, che è quello di presentazioni di autori minori e di ospiti speciali. Quest'anno come ospiti avremo Roberto De Angelis, che era già allievo di Aldamerini. Quindi porterà dei monologhi, che scrive lui, che si chiamano I Persi. È molto interessante da ascoltare, molto divertente anche, particolare. Poi c'è una band got metal, i Bluth, che sono esplosi in questi ultimi anni qui, che verranno a parlare dei loro lavori. La cosa interessante è che hanno una cantante donna, che è un soprano, un mezzo soprano. Quindi è una cosa particolare, per cui classica metal, insomma, tutte queste cose qui. Poi abbiamo Chiara Fina di Guanda, un'autrice di Guanda. Paolo Franceschetti, il mitico Paolo Franceschetti, che verrà a parlarci di esoterismo e magia nei fumetti, in pratica, quello è molto interessante. E poi abbiamo Yolanda Renga, la figlia di Francesco Renga, sì esatto, che verrà come ospite principale. Quindi tanti ospiti e tanti espositori, tante bancarelle. Sì, avremo un 27-28 espositori, ci sarete anche voi, ovviamente, del Bradipo. Certo, certamente, il Bradipo sarà presente. Avremo una novità, perché quest'anno avremo l'Escape Books. Escape Books? Un'Escape Room dedicata ai libri, che abbiamo dato, chiamiamo, in appalto a due ragazze, che vengono a gestire il tutto. Avremo una cartomante, che verrà a fare le carte, carte tarocchi, sempre tematiche ai libri. E poi avremo l'area bimbi, che quest'anno avrà anche degli eventi all'interno. Tutto questo, ricordiamolo, nella bellissima location, che è il castello di San Colombano. Il castello Maddalena Belgioioso di San Colombano all'Ambro. Bellissimo. Tutto il giorno? Allora, sì, si parte la mattina, l'inaugurazione sarà alle 10 e arriveremo fino alle 8 di sera, alle 20. Invece, sapete che una volta stavo uscendo dalla classe per andare in bagno, e mi sono visto questo figuro vicino alla cattedra della Bidella. Mi sono andato, chi è? Ho poi scoperto che si trarava di Simone. E perciò, Simone, cosa ci facevi? Cosa ci facevi al Verri? Al Verri ho svolto e svolgo dei corsi di scrittura creativa, ma anche in altri istituti. Perché Linee Infinite porta a scuola questi corsi, appunto, di scrittura creativa, però finalizzati alla pubblicazione di un libro. Nel senso che non è il mero corso di scrittura che quando finisce al quarto, quinto incontro, i ragazzi non hanno nulla. Noi pubblichiamo un libro. Noi abbiamo iniziato nel 2014 ad entrare nelle scuole, siamo partiti con delle scuole secondarie di primo grado, e poi piano piano ci siamo allargati. Noi prendiamo i quattro gradi scolastici, quindi infanzia, primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo. Infanzia? Cosa si fa all'infanzia? Con l'infanzia. Con l'infanzia facciamo una progettualità particolare, perché in realtà loro non sanno scrivere. Quindi io li guido attraverso la creazione di una storia a voce, dove loro sono veramente i narratori. Quindi c'era una volta e uno dice, ah, un poliziotto, e com'era il poliziotto? Allora il bambino aveva i capelli, tutto così, praticamente, finché raccogliamo tutti i dati, scriviamo la storia, e poi i bimbi la illustrano. Quindi la si legge a loro, loro fanno i disegni, e poi si crea il loro libro. Con gli altri gradi scolastici, invece, è un classico corso di scrittura, non di quelli pesanti, non dove si va a parlare del viaggio dell'eroe, la diegesi, l'esegesi, e tutte queste cose che, immagino già, lo facciano gli insegnanti a scuola, ma si cerca di dare creatività ai ragazzi. Quindi, ecco, lasciarli liberi di scrivere quello che vogliono, l'argomento che vogliono. Io entro in classe, parlo di queste cose, è uno scambio fra me e gli studenti, e io faccio il loro editor. Quindi, non vado a guardare inizialmente la grammatica, l'ortografia, queste cose, ma gli dico, guarda che la tua storia funziona fino a un certo punto, perché qua c'è un buco narrativo, il tuo personaggio devi svilupparlo, ecco, insomma, tutte queste cose, finché si conclude il corso dove loro avranno creato i loro racconti, e però dovranno anche occuparsi di tutto quello che concerne il libro. Quindi, creare uno pseudonimo, biografia, sinossi, quarta di copertina, insomma, tutte queste cose, e magari anche creare la copertina. E poi facciamo una presentazione, dove loro saranno autori e relatori, e li portiamo poi nelle librerie a fare una giornata di firma copie, praticamente tutto quello che fa un autore. Nel triennio delle superiori, proponiamo anche invece un PCTO, fatto a scuola, che dopo il corso di scrittura creativa, noi entriamo in classe e insegniamo ai ragazzi marketing, amministrazione, ufficio stampa, prospettivo autore, insomma, tutte queste cose che fanno parte della casa editrice. Benissimo, quindi si parte proprio dal bimbo, per arrivare al ragazzo, al giovane, no? Si insinua in lui già la passione per la cultura, perché si cerca. Si cerca, si cerca assolutamente. E si riesce, si riesce da ciò che mi hanno detto, si riesce. Beh, progetti. Ma parlavamo proprio prima del fatto che L'Infinite sia nato per il Lodigiano. Il Lodigiano che è un panorama un po' particolare. Il desertico panorama culturale del Lodigiano. Cosa si può fare a proposito? Qual è il modo migliore? Insomma, cosa ci dice a riguardo? Allora, non ho ricette per questa tipologia di domanda. Però secondo me bisogna partire sicuramente dalla scuola. Dalla scuola. Ad esempio, io ho notato tantissimo che i temi che fanno a scuola sono tutti argomentativi. Non c'è una libertà di creare, sostanzialmente. Cioè la creatività viene compressa. Questo è quello che mi sembra di capire. Tu devi essere anche un pochettino più aperto nel dare letture contemporanee. Classici vanno benissimo, per l'amor del cielo. Però ad esempio, alle medie, una Rowling, Harry Potter, potrebbe andare benissimo, perché comunque scrive bene la Rowling. Se tu dai la coscienza di Zeno, di Italo Svevo, insomma, capisci che è leggermente pesantino, purché grandissimo autore. Certo. Per il discorso invece, questo parlo dei ragazzi, per il discorso adulti diventa complicato. Ormai gli adulti fanno fatica veramente a leggere. Fanno fatica perché sono presi da mille altre problematiche, in quanto, vabbè, la società è super di fretta. C'è chi ha figli, magari fa fatica a stare dietro anche a quello. Quello che cerchiamo di fare noi è di creare eventi, presentazioni di libri, e anche lì è triste, perché alle presentazioni dei libri ti trovi comunque a volte due persone. e l'autore quando ha due persone davanti, insomma, dice va bene. Io la faccio lo stesso la presentazione, però... Certo. Forse creare qualche evento culturale, perché io ritengo un po' che la bellezza dell'arte, io quando parlo di arte, parlo di arte a 360 gradi, non solo la scrittura, quindi qualsiasi musica, scultura, cinema, qualsiasi cosa, possa dare qualcosa in più alla gente. Anche perché noi viviamo nel nostro... quello che io chiamo il grigiore, la nostra routine quotidiana. Ad esempio, quando tu scrivi un libro, a volte mi dicono tu vuoi portare un messaggio coi tuoi libri? No. Io scrivo per intrattenere, per intrattenere, per far svagare la persona. Se poi questa persona che mi legge all'interno dei miei libri ci trova un messaggio, ben venga. Quindi, secondo me, cercare di dare quel qualcosa in più che possa far emozionare le persone e riuscire a farli uscire dalla loro vita quotidiana. Ecco, secondo me potrebbe essere anche una ricetta, partendo dalla scuola. Questo è il lavoro dell'imbrattacarte? Questo è il lavoro dell'imbrattacarte, bravissimo. Benissimo. Grazie.